Palazzolo Acleide Palazzolo Acleide ok uno di più là giusto? certo perché adesso era così sicuramente la strada in ugo, le guide, d'acqua e poi l'abbiamo mandato a musicare ci fai una cosa e non puoi registrare ora stavo con l'obiettura l'abbiamo mandato a musicare questo cazzo vuoi andare per il campo? no no non lo so no se no mi sono detto no piano piano vediamo 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 si appena cade la stacchiamo vediamo vediamo facciamo la partenza ok possiamo andare? certo andiamo mettiamo il viaggio andiamo a mietere il grano andiamo andiamo a mietere il grano il grano è la tastola tante cabaglie che c'erano non lo so ma infatti i ghietello fotte si si ti vede benissimo ah e' no ma si si però ci riportiamo a San Giuliano se ci metto così a là che apri via San Giuliano va bene no ma c'è questa l'IP d'accordo infatti la benzina ce la mettiamo sto vedendo anche la strada ecco la strada di sfondo che ha un bell'effetto dentro la macchina e poi lo registri tutto assieme, lo metti tutto come uno e metti pazzo ma ti metterai soltanto i cristiani c'è una macchina gialla davanti, è una 500 guarda un pochettino a rosare, vieni qua, un nero rosare l'hai visto la mattina? l'hai visto la mattina? l'hai visto la mattina? c'era la porta aperta e poi... ma come vai? non c'è appunto meno che isterica diciamo con l'impegno venga uno insieme a New York ti ha insultato a te, ti ha insultato a te ora secondo me l'ho messo a caro un attimo, sennò viene troppo lungo si? sempre il bussante rosso? si a me la... a me la battenza l'ha fatta si sai perchè il rostrante è uguale, lì sotto c'è chi dovrebbe... da bene io non ho... ora quando ci passavamo dire avanti ora è qua sotto non è piaggiata se è scelta come si è orto come si è orto mb come si è orto vede avanti sta riscattando è accesa si l'hai giociature che sta avrando il terreno un po' davanti si dopo è strada l'hai quella che sta avrando vedo? è da te Fabio si ora giro piano 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 no salio! giro! giro ti ma ti prendi una scherzetta una scherzetta una scherzetta ma che vuoi? ora giro 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 non quanto autovelox non puoi vuole spesso davanti a un po' dietro si, la perata si, di qua viene buono aspetta, mi chiamo qua? la cosa qua? come si chiama qua? la barzatura c'è la della zoomata puoi fare con lo zoom il coso quello sopra se c'è nessun paesaggio sono strano no? ma devono andare guarda vado 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 sott** vado 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 Didi vado c'è vado vado usa e vado ri Rosario, sorriso, d'Urbanzo, si, ne ci rendi fuori si, non esce la lingua di fuori nooo, magari oggi nooo, magari oggi perchè? ma... ah tu si, vedi cari, non lo sa e c'è che feste questa? San Paolo, San Paolo San Paolo, San Paolo, San Paolo si, un po' forte, bello così, vedi ce avevamo l'ombra stiamo gurend a otanta siamo a sessanta sessanta siamo a sessanta scelte il limite, devo vedeci da, perchè ora l'ora ne arriva a muta a casa si pare che ci misi, auto-velocs si, ora... c'è una macchina curva a testo da l'altra parte c'è un pò di cento da l'altra parte ma prendiamo il ponte bello, ci stiamo passando vicino è che c'è un specchietto, mannaccia c'è il flume ah, c'è il flume bello, c'è il flume non c'è un flume non c'è, non c'è un flume ma c'è un flume non c'è un flume ce l'ho concentrato non c'è la merda io sono concentrato sei la merda che ci fai a livello? c'hai detto che ci fai a livello? ah ma non c'è il bordo non c'è il bordo ma poi tu non lo s'programmai a livello